Grazie a tutti. Grazie a tutti. A suo fianco un giovane, ormai non è più una promessa, ma è una realtà, Giacomo Ciucci, che in pochi mesi è riuscito a mettersi in mostra per le proprie doti professionali e per riuscire a ben orchestrare questo difficile mestiere di navigatore. Parleremo quindi anche con Giacomo, oltre che con Paolo. Abbiamo in questo lungo tavolo anche il vincitore delle ultime tre edizioni, ma in realtà ne ha vinte anche una quarta non in sequenza. Rudy Michelini, che chiaramente vorrà incrementare il suo palmares qui al rally semi di casa, perché in realtà lui sta al confine, mi sembra, tra la provincia di Lucca e quella di Pistoia. Abbiamo poi un uomo, un ragazzo, che conosce in maniera molto approfondita l'ambiente delle corse e dei rally, che è Gianluca Nataloni, che ha veramente in mano la situazione nei rally non solo nazionali, anzi, diciamo che in Italia lavora poco, il suo lavoro è quello proprio di seguire team professionistici un po' in tutto il mondo e che, oltre che essere ultra preparato, sapere quattro lingue e mezzo, dice lui, benissimo. Come appunto, infatti prima gli ho fatto una domanda, ma com'è che ragioni quando parli in altre lingue? Ragiono nella lingua in cui parlo, per cui questo vuol dire che c'è una padronanza delle lingue veramente eccezionale, ma ha una cosa che molti di noi lo accumulano a lui, che è quella della grande passione, perché oltretutto è anche competente e corre, per cui conosce direttamente come funziona questo meraviglioso gioco dei rally. E poi chiaramente abbiamo i nostri due lavoratori, sono coloro che in pratica l'anima della scuderia Valestero e su cui tutta la scuderia si basa per l'organizzazione non solo del rally Coppa Città di Lucca, ma anche altre manifestazioni a partire dal rally del Cannevale, la ronda di Radicofani, il rally di Camaiore e altre iniziative relative chiaramente alle quattro ruote. E proprio inizierei da loro, in veste di organizzatore, darei la parola a Pierangelo Brogi e gli lascio il microfono. Dunque, comincerò dal fatto che è una tragedia quest'anno per tutti i rally, perché noi soltanto abbiamo avuto 50 iscritti in meno e quindi siamo messi un po' malino dal punto di vista numerico. Dal punto di vista qualitativo siamo messi benissimo, perché un ordine di partenti come questo che abbiamo noi, quest'anno l'ho visto quasi uguale alla ronda a Lugano. Dico quindi, la ronda del Ticino che era molto bello il parco partente. Per il resto mi sembra che abbiamo fatto, come sempre, quasi tutti gli anni, il record assoluto di iscritti rispetto a tutti gli altri rally. Ci stringiamo la cinghia, visti i sacrifici che dovremmo fare per pareggiare i conti, però siamo contenti perché la gara verrà sicuramente bella e penso anche combattuta, perché Anderucci sicuramente è il favorito numero uno, ma Rudy Michelini credo che non molli, perché dopo aver vinto quattro edizioni credo che anche magari ci terrebbe a vincere una quinta. Per il resto il rally è il rally collaudato degli altri anni, con una prova scorciata di due chilometri, in un pezzo che diceva effettivamente non un granché. Abbiamo ritrovato la logistica di una volta al Caffè delle Mura, che finalmente è stato riaperto. Quindi ci sarà la cena di gala prima del rally al caffè, ci sarà la premiazione di nuovo nel Giardino del Caffè, cosa a cui io tenevo moltissimo, perché mi è sempre piaciuta tanto e è piaciuta tanto anche a tutti quelli che hanno partecipato. Speriamo che sia un successo e quindi vediamo domenica cosa accadrà. Passo la parola a Luca per la descrizione magari più approfondita del percorso e delle caratteristiche della gara. Allora, buonasera a tutti. Il percorso quest'anno praticamente l'abbiamo lasciato quasi invariato rispetto alla passata edizione, perché ha funzionato molto bene lo scorso anno, ha girato molto bene e di conseguenza qualsiasi variazione può portare magari a qualche problema. La partenza avverrà alle ore, come tutti gli anni, da 30 anni, dal Caffè delle Mura alle ore 23 e un minuto. La prima macchina partirà di lì, sarà il numero uno con Andreucci, a seguire Michelini. Dopo la mattina, il pomeriggio alle ore 20, verrà fatto molto bello un parco chiuso sulla cortina che va da Caffè delle Mura al baloardo di San Paolino, dove tutte le macchine saranno posteggiate lì per essere viste da tutti gli spettatori. Dopo la partenza, ci sarà la parca assistenza presso il Dancing Eco a Papau, di 15 minuti, e dopo partirà la gara vera e propria con la prima prova speciale di Brancoli. Una prova ad anello che ci dà molto da pensare, perché è un punto molto stretto. La prima prova generalmente viene sempre seguita da moltissimi spettatori e abbiamo un po' di preoccupazioni per il folto pubblico che senz'altro verrà, anche grazie ai nomi che ci sono quest'anno che parteciperanno a questa gara. Dopo la prima prova speciale di Brancoli, si passa alla prova speciale di Pescaglia, chiamata di San Rocco. San Rocco perché è un punto classico dove c'è un guado e tutti gli anni centinaia di spettatori si accalcano in questo punto. La terza prova speciale, invece, è la prova di Monte Fegatesi, con partenza da Bagni di Lucca presso i bagni, e sale fino a Monte Fegatesi per scendere fino a San Cassiano di Controne. Fatte le prime tre prove, tutti ritornano al parco assistenza all'Eco per poi ripetere un altro giro e poi successivamente ripetere solo la prova di Brancoli che è l'unica che viene effettuata per tre volte. Molta preoccupazione l'abbiamo perché questi nomi, Andreucci, Michelini e tutti gli altri che sono anche in categoria inferiore, però nomi molto di prestigio, senz'altro porteranno molto pubblico a vedere questo rally. Il pubblico ti dà da una parte soddisfazione e dall'altra parte preoccupazione perché ci vuole disciplina, ci vuole essere corretti, stare in punti di sicurezza e purtroppo tante volte questo non accade. Noi cerchiamo sempre tutti gli anni di migliorare anche sul fatto della sicurezza, cercando di sensibilizzare il pubblico, a posizionarsi in posizioni sicure, ma tante volte non ci stanno e tante volte sinceramente abbiamo grande fortuna che non succedano sempre delle cose brutte. Questo è il percorso. La prima macchina, se tutto è regolare, alle 8.45 ritorna al Caffè delle Mura, per dopo alle 12.30, la premiazione è sempre al giardino che è stato, come ha detto prima Brogi, restaurato e rifaremo questa premiazione che ormai, ora non mi ricordo quanti anni, ma dal 99 che questa premiazione non viene più fatta perché il caffè ormai era andato un po' in decadenza e in rovina e ora meno male è stato ristrutturato e quest'anno è il primo anno che rispolvera tutti i suoi splendori. Passerei la parola, prima di passarla, ai tre conduttori che sono qui presenti con noi, a Gianluca Nataloni che ci spiegherà un po' di questo programma, di questo equipaggio, di questa pilotessa australiana che sta veramente crescendo velocemente in questo ambiente e che, parlo appunto di Molly Taylor, che sarà presente a Lucca dopo aver effettuato dei test in Italia perché corre per un team, fra l'altro sempre toscano, della BP Racing e che la United Business porta un po' in giro per il mondo e dopo aver effettuato una gara all'estero fa questo appuntamento qui a Lucca per poi proseguire per fare due gare di livello mondiale del calendario VRC in Germania e in Finlandia e poi ci saranno probabilmente anche altri appuntamenti di cui ci parlerà Gianluca che è un profondo conoscitore dell'ambiente dei rally a livello mondiale ed europeo e in questa gara fa anche un po' da tutor di questi due giovani conduttori che sono presenti e che vi ricordo come dieci anni fa, nel 2002, ha corso un certo Irvonen qui al Coppa Città di Lucca dopo dieci anni si ripete un pilota, anzi una pilotessa presso appunto la nostra gara e quindi questo si spera che sia di buon auspicio per il futuro di questa bella ragazza e anche veloce per cui io penso dal mio punto di vista che probabilmente sabato notte sarà un po' la sorpresa per tutti ci saranno alcuni piloti che dovranno fare conti con Molly a te la parola Grazie, innanzitutto io porto il saluto di Molly, Taylor, S. Marshall il suo copilota che questa sera purtroppo non sono qui con noi ma mi hanno chiesto di ringraziare appunto gli organizzatori per l'opportunità loro concessa di venire a correre qui a Lucca come ha detto Massimo, questo giovane equipaggio già protagonista l'anno scorso della URC Academy quindi la serie riservata alle giovani leve che vogliono mettersi in luce nel mondiale quest'anno ha un programma con una macchina nuova per loro una Citroen DS3 con la quale dopo aver fatto dei test e debuttato a IPR proseguono il loro programma di apprendistato hanno disputato la settimana scorsa come apripista a Rari del Casentino sono in gara qui a Lucca e proseguiranno poi da questo che sarà il loro trampolino di lancio per le gare del mondiale con un programma nel campionato del mondo rally che parte appunto tra due settimane in Finlandia e si svilupperà poi su altri appuntamenti quello che posso dirti è che ho parlato con loro e sono rimasti stupiti piacevolmente sorpresi dall'accoglienza che l'Italia e la Toscana ha riservato loro sia la settimana scorsa sia allora arrivo qui a Lucca e pur essendo per loro stessa missione una gara anche questa dove devono imparare su un fondo che non è il loro fondo di predilezione Molli ha sempre corso più sulla terra e quindi nell'asfalto deve ancora imparare ha frequentato tra l'altro nei due giorni tra il Casentino e qui una scuola di guidarelli per raffinare appunto le tecniche di guida su asfalto e cercheranno come sempre di fare bene e di approfittare al massimo di questa esperienza per imparare proprio come hai detto tu sulla falsariga di quello che ha fatto dieci anni fa un certo amico Ervonen pluricampione pluri scusa vice campione del mondo e cosa ti posso dire se sono rose fioriranno bene ora lascerei la parola al campione italiano pluricampione italiano campione in carica attualmente in testa al campionato italiano rally Paolo Andreucci che è ritornato al rally cupa città di Lucca dopo qualche anno e che ci spiegherà un po' come è nata questa idea di effettuare la gara qui a Lucca e soprattutto l'idea di portare accanto a te un giovane navegatore che ormai si è svezzato bene mi sembra Sì come ti dicevo prima insomma era già un po' che ci provavamo a fare una gara dovevamo fare quest'inverno la i rally di di radicofani e poi purtroppo la stata sta nevicata incredibile insomma ci ha sì è stata un po' ci ha complicata un po' la situazione e non l'abbiamo fatta cioè lo spostamento di data della gara ci ha creato un po' di problemi per cui avevamo c'eravamo riproposti che quando c'era la possibilità di ricorrere insieme la possibilità è arrivata a questa gara di Lucca e insomma speriamo di riuscire a far bene anche se sarà sarà un po' sarà un po' però noi abbiamo la macchina è la solita che abbiamo nel campionato italiano la squadra è la solita la Racing Lion per cui ecco diciamo il pacchetto nostro è competitivo insomma riusciamo siamo riusciti a portare insomma tutta la la tecnica che abbiamo nell'italiano l'abbiamo portata qui a Lucca e insomma speriamo di far bene Giacomo è bravo per cui anche sicuramente non mi farà sentire la la mancanza di Anna perché è undici anni che sento sempre la solita la solita voce ma insomma ci troviamo più che bene per cui non ci saranno problemi sotto questo punto di vista Giacomo allora è il tuo turno a questo giro abbiamo coronato un sogno penso ma sì già ti dico già per me già la gara di Rally Lucca è più di una gara di casa perché per noi Lucchesi e Toscani è un po' il nostro mondiale poter partire con il numero uno con un certo Paolo Andreucci con una macchina che è quella ufficiale del campionato italiano sicuramente è un diciamo che è un sogno che fino a poco tempo fa poteva essere solo un'utopia ecco perché non pensavo da arrivarci siamo qui e Paolo ringrazio Paolo per la fiducia insomma di caricarmi in macchina e niente la gara di casa io la sento tanto perché io ti dico da un anno all'altro aspetto l'estate perché a me quando comincio a sentire l'estate comincio a sentire voglia di Città di Lucca e farlo con Paolo insomma è già un bel passo io spero di essere all'altezza insomma di garbarli e di fare insomma di riuscire a stare a tutte le sue decidenze e basta cerchiamo di fare una bella gara e di fare poi sarà secondo me non sarà scontata come tanti dicono perché comunque con Rudy secondo me Rudy secondo me un po' magari ce la da sudare e secondo me è anche un po' il bello perché non è facile vedere neanche iscritti con due piloti così che solitamente sono nel campionato italiano che si scontrano una gara di casa secondo me proprio come si dice nel calcio è proprio un bel derby insomma secondo me è tutto da vivere sia per noi che ce la giocheremo sia per il pubblico che sicuramente come hanno già come stanno già dicendo dei forum è già molto sentita sta gara quindi sono contento sono veramente contento per me sono contento per la gara e di farne parte diciamo in prima linea in questa maniera Rudy abbiamo tre anni per tre anni di seguito sei stato gli ultimi tre anni sei stato il protagonista assoluto di questa manifestazione quest'anno abbiamo un ulteriore stimolo un confronto con un campione come Paolo quindi sarà un ulteriore stimolo per poter migliorarsi anche sì mi ripresento quest'anno come gli ultimi due anni con la Punto Super 2000 della Procar grazie a uno sponsor qui di Luca che è la Celtics e questa volta è stato proprio fatto all'ultimo secondo perché ho deciso di correre la proposta che mi stava fatta da Procar due giorni fa l'ho accettata soprattutto per confrontarmi con Paolo vabbè mi sono già confrontato però so le sue doti conosco le mie conosco i miei limiti logicamente non posso pensare di di stargli davanti o almeno io ci proverò ci ammetterò tutta però logicamente non sarà facile soprattutto non è che metto le mani avanti però conosco conosco i miei limiti so chi è Paolo Anderucci quindi purtroppo non ho potuto provare la macchina per me è un anno che ci corso l'ultima volta ci corso un anno fa col Super 2000 invece corso l'ultima gara con la 207 al ciocco quindi per me è tutto nuovo e niente ce la metterò tutta e spero di ben risultare a Luca sicuramente questa manifestazione con queste stare internazionali perché Paolo Anderucci è conoscitissimo anche all'estero viste le gare che ha effettuato all'estero con la simpatica e bella Molly Taylor riusciremo ad avere un epicentro anche da un punto di vista mediatico e aggancio questo discorso per dire che anche siamo riusciti quest'anno grazie a Di Luca ad avere la diretta tv per quanto riguarda fin dalle 21 e 30 quindi ci sarà un po' di interviste un po' di spettacolo e gira danza che appunto allieterà poco prima della partenza sul palco con un palco adiacente alla partenza ci sarà quindi interviste un po' di personaggi sia dello sport in genere e quindi ci sarà questa diretta proseguirà poi chiaramente con la diretta della partenza e riusciremo anche ad avere con Di Luca la indifferita chiaramente la camera car della prima prova speciale di Paolo Andreucci oltre che anche dell'altro pilota di cassa Mauro Lenci che ormai è un veterano di questa manifestazione ci sarà anche una diretta di Radio Star e una diretta anche di provaspeciale.it con informazioni in pratica per tutta la nottata inoltre volevo di nuovo dare la parola a Luca per magari qualche raccomandazione ai nostri tifosi perché come ho già detto Luca il pubblico è quello che onora questa manifestazione perché ne ha veramente tanto di pubblico in questa gara perché sentita è un po' un appuntamento classico uno fra gli più importanti appuntamenti in genere di Luca e non solo diciamo fra quelli sportivi penso che sia anche fra quelli non sportivi fra quelli più seguiti quindi un movimento di migliaia di persone che seguiranno dal vivo sia alla partenza ma soprattutto anche lungo le prove perché è un po' una festa continua tutta dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina soprattutto e quindi la raccomandazione è quella di dare di seguire le indicazioni degli ufficiali di gara delle forze dell'ordine lungo il percorso perché chiaramente il rally deve viaggiare in completa sicurezza e se vuoi dire due parole tecniche sulla sicurezza che poi sei quello che il referente principale di questa perché forse non tutti sanno che c'è una struttura dietro che ci saranno varie apripista e Luca ha la responsabilità di essere l'ultimo apripista prima di far partire la gara vera e propria quindi di far partire il numero uno in questo caso Paolo Andreucci quindi quali sono le raccomandazioni che diciamo si può ripetere perché è la cosa più importante poi le raccomandazioni sono sempre le stesse come ho detto prima di stare in alto non stare in traiettoria e una cosa importante è di capire di stare in punti sicuri perché quando esce una macchina non si sa mai le reazioni che può avere cioè non è dire sì io mi metto da una parte sono salvo no la macchina è come una palla impazzita secondo come esce di conseguenza tutti i posti possono essere a rischio la nostra struttura prevede il passaggio di diverse apripista prima della partenza della prima gara della prima auto tutti cercano di sensibilizzare il pubblico e di farlo mettere in sicurezza io ho l'ingrato compito purtroppo di fare l'ultimo e di dare il via alla prima macchina quando arriva lo stop della prova speciale è una valutazione che devo dare tutte le volte della sicurezza della prova di conseguenza tante volte ti trovi a dire sì partiamo ma con un sì un po' sottovoce perché tante volte il pubblico non rispetta le norme di sicurezza se devo essere sincero negli ultimi anni c'è molto più disciplina da parte del pubblico rispetto a anni fa se si vennero filmati di 10, 15, 20 anni fa si vedeva la gente che si apriva davanti alle auto e lì era molto pericoloso forse un po' da incoscienti ma poi piano piano la gente ha capito e ora cerca di stare sempre più in sicurezza naturalmente il pericolo più grosso sono gli spostamenti perché chi arriva prima magari si mette in posti di sicurezza chi arriva all'ultimo non trova posto e cerca di stare in punti che ritengono di essere in sicurezza ma magari non lo sono e poi magari si spostano questo spostamento può provocare degli incidenti perché mentre si spostano passano sempre le auto ecco queste cose andrebbero evitate come andrebbero evitate di lasciare rifiuti o altre cose lungo le strade noi si prevede proprio per la pulizia una squadra che finì partita l'ultima macchina tutti gli anni passa e ripulisce tutto quello che dalle lattine alle carte che hanno lasciato gli spettatori perché purtroppo tutti lasciano lì sul posto qualcosa per continuare a organizzare per non avere sempre permessi da parte dei comuni bisogna sempre dopo ripristinare le prove come erano prima della manifestazione questo purtroppo ci comporta anche un notevole costo economico perché una squadra per un giorno rifà tutte le prove anche ripulendo purtroppo tutti i sassi o terra che i vari piloti hanno tagliando le curve hanno portato sul bordo della strada la raccomandazione è sempre la stessa di avere un po' di coscienza e di io dico sempre magari vedete un po' meno però lunedì lo raccontate ecco questo è il mio motto allora Andrea grazie per il posto devo crescere due parole su questa gara che ormai conosci da anni e due parole anche su chi conosci da una vita cioè la balestero grazie scusate il ritardo signori però avevo un impegno familiare che non ho potuto rinviare questa gara è la coppa del mondo è inutile è inutile tutti vogliono venire a correre a Lucca l'elenco iscritto è sempre più grasso per il presidente è contento le prove sono belle non c'è da dire altro no c'è da dire tante cose la manifestazione è sempre più bella nel senso che a partire dalle belle mura di Lucca che noi abbiamo una città meravigliosa andiamo sulle prove speciali dove troviamo il pubblico più caldo perciò per noi che bene o male quasi tutti i piloti di Lucca hanno iniziato su queste strade io penso che sia un'adrenalina fuori dalle righe ossia il correre per noi è adrenalina e l'adrenalina che proviamo a Lucca non so magari Paolo è abituato a altri stimoli ma Rudy e tutti gli altri io penso che siano ben contenti di fare questa gara l'organizzazione è al top perché i professionisti specialmente l'ultimo che apre Luca Ciucci che apre le danze è molto attento è un avvertimento a tutti i tifosi state da parte è veramente attenzione alla sicurezza perché noi siamo a divertirci e i tifosi ugualmente è l'importante che tutto va di bene grazie bene a questo punto lascerei la parola a Pierangelo Brogi per la chiusura del discorso che sarà poi l'inizio della gara poi alla fine beh diciamo che abbiamo concluso il prologo l'importante è concludere bene la gara domani e domani l'altro è arrivare alla premiazione col numero più alto di piloti possibili Luca è sempre stata famosa perché c'è sempre stata una discreta moria lungo le strade per piccoli incidenti magari con trattempi dovuti alla corsa speriamo che quest'anno venga un po' ribaltata invece del solito 50-60% arrivi anche l'80-90% alla premiazione per fare una premiazione come era una volta con le due o trecento persone che si accalcavano lungo il pratino del caffè delle mura io ringrazio tutti per essere venuti vi aspetto sulle prove speciali dalla partenza e quindi a sabato sera grazie grazie